Ma con le alici si possono realizzare anche degli ottimi tortini È una ricetta classica che va per la maggiore in diverse regioni d'Italia Oggi però voglio realizzare un'alternativa alla classica ricetta del tortino Una millefoglie di alici con mozzarella di bufala Per preparare il tortino dobbiamo terminare la pulizia delle alici Togliendo anche la lisca centrale, in questo modo Aprendo l'alice in maniera che i due filetti non si separino e restino ben attaccati tra loro Ora mettiamo un pezzo di carta forno nella teglia forata del Grand Chef Vi adagiamo sopra tre alici aperte Poi facciamo uno strato di mozzarella di bufala Pomodorini tagliati a fettine Basilico Ed un po' di pane grattugiato Ripetiamo questa operazione per tre strati Quindi di nuovo alici, mozzarella, pomodori, basilico e pangrattato Alla fine completiamo con il pangrattato Dei crackers sbriciolati Un po' di mozzarella Ed un filo d'olio Cuociamo sulla griglia bassa del Grand Chef già caldo A 180 gradi, fan media, per 12 minuti Un po' di pane grattugiato